Insieme a te Quando un tuo amico è innamorato non sai mai come comportarti Senti Cosino, tu non mi piaci Il telefonino da Libra non risponde mai Perché i problemi di un innamorato sono solo una serie di fregnacce senza limite Quando io ti ho conosciuto tu non eri così Ti piaceva la gente, ti piaceva il tuo lavoro La gente, il lavoro, le colline sono un fiori che stai a dire L'85% dei mariti italiani tradisce le mogli e il 60% delle mogli tradisce il marito Aschio Io mi rifiuto di credere che tu sia scappata di casa Stavo guardando questo manuale d'amore di Friedman Ma che cos'è, un libro che si ascolta? Sì, è un audiobook Questo Ah, l'abbandono Non è per me, è per un mio amico Se siete stati abbandonati Mia moglie non è scappata di casa Mia moglie si è momentaneamente assentata Se sospettate un tradimento Oddio, è tornato? Come è tornato? Se siete in piena crisi o vi siete innamorati C'è lo che c'è gente! C'è un manuale per voi Manuale d'amore L'uomo non sa perché si innamora L'uomo viene travolto e basta Ecco L'uomo